La domanda che viene spesso posta alla dovera antitrust è se nel mercato dell'energia vi è una concorrenza effettiva e quali sono gli strumenti per poterla migliorare, cioè quali sono le prossime sfide. Ora, tradizionalmente se guardiamo al passato possiamo vedere come alcune criticità concorrenziane nel mercato dell'energia vi sono sempre state, queste sono derivate da ragioni storiche, la presenza di incumbent pubblici e anche alcune strozzature infrastrutturali che creano dei monocropoli legali e che quindi vanno superate ai fini di avere un mercato concorrenziale. Un'altra strozzatura è la consapevolezza da parte del consumatore di tutte le opportunità che ha dei propri diritti e a volte l'opacità del mercato non garantisce questa consapevolezza. Tutte queste ragioni non sono ragioni per essere pessimisti, per affrontare con pessimismo le prossime sfide. L'autorità antitrust è sempre occupata di vigilare sul mercato, di vigilare perché l'integrazione verticale non determini condotte che poi noi possiamo qualificare come abuso di posizione dominante, ha condotto molti procedimenti in questo senso e continuerà a farli. Sicuramente ci sono alcuni problemi, alcuni problemi per indicarli sinteticamente alcuni, vi è ad esempio il problema delle gare nella distribuzione del gas, gare che vengono ritardate da troppo tempo che l'autorità chiede di fare, vi è ormai un contesto normativo chiaro e quindi il fatto che non vengono fatte le gare sicuramente è un rallontamento anche per quella minima concorrenza per il mercato che è garantita dalla gara. Vi sono degli aspetti invece positivi, per esempio nel settore dei smart metering, cioè dei nuovi misuratori evoluti di energia, qui anche la Commissione ritiene l'Italia a un livello avanzato in Europa e l'autorità antitrust vi ha contribuito attraverso un procedimento che ha riguardato Enel e che è stato chiuso con l'accettazione di impegni, proprio questi impegni auspichiamo, è un provvedimento di qualche settimana fa, auspichiamo possano contribuire a sviluppare la concorrenza in questo settore. Un'altra criticità è il livello delle infrastrutture e soprattutto la difficoltà a migliorare e a creare nuove infrastrutture, questa è una criticità che caratterizza il nostro ordinamento, cioè le difficoltà, gli oneri burocratici, le difficoltà burocratiche a ottenere autorizzazioni, qui ci vorrebbe un processo di semplificazione, in parte di liberalizzazione che è stato molto spesso avviato ma poi non è stato implementato, per far sì che in Italia abbiamo una burocrazia leggera, una burocrazia non vista come elemento patologico al cittadino, ma è una burocrazia che faciliti le condotte e le richieste di cittadini e imprese. Un tema di cui si sta parlando ha molto tempo è il superamento del regime della maggior tutela, è attualmente la discussione del Parlamento nell'ambito del disegno di legge di concorrenza, qui è nota la posizione dell'autorità antitrust in favore di questo superamento. Sappiamo che ha dei rischi, nel senso che può avere delle ricadute sul consumatore non tutte oggi prevedibili, ma noi pensiamo che il miglior strumento sia stabilire una data per il superamento e nel corso di questi mesi o anni, quanti saranno, contribuire ad accrescere la consapevolezza dei consumatori. L'ultimo punto che vorrei evidenziare è come le competenze dell'autorità antitrust in materia di concorrenza, in materia di tutela del consumatore non sono competenze distinte, non sono compartimenti stagni, sono competenze che si intrecciano e molto spesso, anche se si riesce ad aprire mercati a una maggiore concorrenza, quindi una mobilità del consumatore per potersi spostare da un operatore all'altro, se poi questo consumatore non ha la consapevolezza di quali sono i propri diritti e vede in modo opaco le informazioni che riceve, e noi abbiamo fatto diversi procedimenti, sanzionando molte imprese di questo settore per attivazioni non richieste, per informazioni che gli vengono date in modo errato tramite i call center, o i modi di contatto del consumatore, per i metodi di fatturazione, per l'ostaglio del recesso, se non si supera questo manca un elemento che non garantisce a rendere la concorrenza realmente effettiva. In conclusione io penso che le sfide sono molte, dobbiamo essere ottimisti perché una parte, da 15 anni a questa parte, una parte della strada verso la liberalizzazione, il settore l'abbiamo già compiuta, ci restano altre sfide, ma bisogna avere il coraggio di affrontarle con determinazione.